Ha versato 370 euro di caparra per partecipare a un viaggio in Germania promosso via Opuscoli da un ex paracadutista, ma l'offerta si è rivelata una truffa. Vittima un 50enne piacentino che insieme a un'altra decina di persone, tutte residenti in Emilia-Romagna, ha visto sfumare i propri contanti e il proposito di lanciarsi dall'aereo con il paracadute. L'uomo aveva aderito al tour pubblicizzato da un ex paracadutista milanese di 50 anni attraverso circoli e associazioni di appassionati del brivido ad alta quota. La partenza era stata fissata a metà dicembre, ma alla data stabilita il promotore ha fatto marcia indietro dichiarando che la vacanza era slittata, causa problemi meccanici al velivolo. Il piacentino che aveva già pagato il vaglia d'anticipo ha tentato di prendere nuovamente contatto con il 50enne che però si era già reso irreperibile. Non avendo ottenuto risposta ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione principale di Piacenza. L'ex paracadutista, già noto per precedenti simili, è stato denunciato per truffa. Grazie. 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 Grazie.